... ... che ancora meglio messi di Dybala, giusto? Vi aspettate un innalzamento ulteriore di Dybala rispetto alla scorsa stagione? Che ha segnato solo 8 gol... Deve migliorare perché ne ha le capacità, ne ha le caratteristiche, anche fisiche se vuoi. Secondo me può migliorare molto, come dice Allegri, ma soprattutto se vuoi davvero fare un confronto compiuto, Fabio, lo devi fare sulle vittorie. A questi livelli, secondo me, conta molto quello che vinci in carriera. Sì, abbiamo visto che Messi... Massimo, lascia perdere le vittorie. Eh, lo so. Per me Dybala non raggiungerà mai Messi, i picchi che ha toccato Messi. Ah, addirittura così? No, non farà mai. Non avrà mai come Messi, perché gli ultimi metri di Messi, quando lui prende pari a tre quarti, Dybala ci mancherebbe. Stiamo parlando di un grande giocatore, ma Messi è veramente quasi imparabile, è immarcabile. Non penso che Dybala possa arrivare. Penso un'altra cosa, penso che il carisma di Dybala lo possa portare a dei livelli altissimi, perché lui è un ragazzino che piace a tutti. Messi non è personaggio, tu non conosci Messi, no? Messi è quasi un... Buon anno.